Ed ora la pagina milanese, ed ora attacco del Movimento 5 Stelle a Regione Lombardia contro la rete nazionale degli inceneritori. Lo sapevate che gli inceneritori in Lombardia e in Emilia possono funzionare perché la maggior parte dei rifiuti arrivano dalle altre regioni italiane? È proprio così. Ecco perché il Movimento 5 Stelle qui al Pirellone ha inoltrato una mozione urgente che naturalmente è stata neutralizzata dalla stessa maggioranza. Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha presentato in Consiglio regionale una mozione urgente per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo per cancellare l'articolo 23 del disegno di legge ambientale che prevede la creazione di una rete nazionale di inceneritori. Per il Movimento 5 Stelle la rete ha l'obiettivo di portare a bruciare i rifiuti urbani di tutta Italia negli inceneritori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Una porcata del Governo Letta che favorisce gli interessi economici delle lobby degli inceneritori e che se approvata farà danni gravissimi all'ambiente e alla salute dei cittadini lombardi ed emiliani e un danno economico altrettanto grave per le comunità da cui verrebbero presi i rifiuti che pagherebbero per l'incapacità gestionale ed organizzativa delle classi politiche locali. Si tratta di un progetto del Governo Letta per creare una rete nazionale degli inceneritori che andrebbe messa a disposizione dei rifiuti di tutta Italia e visto che buona parte dei cittadini italiani sono in regione Lombardia il rischio è che ci arrivino rifiuti da tutte le parti d'Italia. Riteniamo che sia un provvedimento sbagliato sia per i cittadini lombardi che vedrebbero peggiorare le proprie condizioni ambientali e sanitarie ma anche per i cittadini dei territori da cui arriverebbero i rifiuti. Sarebbe solo un modo per giustificare le incompetenze delle classi politiche locali che non sono in grado di fare una raccolta differenziata seria. Per il Movimento 5 Stelle non vale appellarsi alla solidarietà tra i territori e tra le regioni. Niente di più falso. In qualunque contesto insediativo bastano pochi mesi per portare a regime un sistema di raccolta differenziata porta a porta con tariffazione puntuale in grado di portare la raccolta differenziata oltre il 70%. E allora che senso ha questo provvedimento? È una truffa ai danni di tutti i cittadini? Credo che sia una questione di responsabilità dei cittadini e degli amministratori locali. Fare una raccolta differenziata porta a porta con una tariffa puntuale che porti il differenziato sopra il 70-75% è questione di pochi mesi se c'è la volontà politica e quindi è bene che queste cose si facciano nei propri territori anche perché ci sono dei risvolti economici importanti per i cittadini. La mozione che chiede di fermare la rete nazionale degli inceneritori è stata giudicata non urgente dal presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e sarà quindi discussa nel corso del prossimo Consiglio regionale utile Come dire, meglio rimandare a ogni decisione quando in ballo c'è la salute dei cittadini.